Invalidissimo ospite di Eurosport in vista della decima tappa del Tour de France, Ivan l'avrai sicuramente visto da casa, che tour è fino adesso? Un tour che ti piace? Come vedi i tuoi colleghi a battagliare sulla strada? Il tour mi piace sempre perché è la corsa che amo, è la corsa che ho fatto più volte nella mia carriera e per me è molto difficile essere a casa e guardarla da spettatore. Ovviamente siamo solo la prima settimana, c'è un padrone dichiarato che è Froome, ha dimostrato di essere nettamente il più forte. La sua squadra è stata fortissima, tranne un giorno che con ogni probabilità ha pagato un po' lo sforzo del giorno precedente. Però è una squadra che è abituata a vincere, è una squadra che sa ripartire anche da giornate negative. Quindi io credo che Froome resta comunque il favorito perché è l'atleta più forte, perché ha una squadra che sicuramente saprà riprendersi. Come vedi gli avversari? C'è Contador che ha detto lui stesso di aver faticato un pochino, poi c'è Evans, Rodriguez, insomma tutti stanno attraversando un momento un po' particolare. Poi ci sono i colombiani con Quintana in primis e Valverde che è insomma sempre un avversario ostico. Gli avversari hanno, Contador ha perso forse qualcosa in più di quello che si aspettava nella prima tappa di montagna, però ha dimostrato anche l'anno scorso poi con una giornata super alla vuelta di riuscire a ribaltare la situazione. È un tour ancora aperto, io vedo comunque Froome molto forte. Credo che la cronometro di domani darà ancora una classifica più chiara e come sempre poi nella terza settimana si decide il tour. Trovo che Froome resta il favorito numero uno ma anche gli altri non sono fuori dai giochi. L'anno scorso il team Sky dominava insomma il Tour de France con la coppia Wiggins-Froome. Quest'anno sembrano un po' meno forti. Secondo te può essere una coincidenza un pochino troppo evidente il fatto che ci sia Froome come leader piuttosto che Wiggins? È difficile sostituire Wiggins. L'anno scorso c'erano Wiggins e Froome, quindi due leader. Non è facile sostituire se uno dei due manca. È ovvio che la squadra non è come l'anno prima, però è una squadra forte che alla fine può sostenerlo. Dipenderà molto da quanto riuscirà a dare gli avversari nella cronometro. Bisogna vedere quanto vantaggio ha da poter gestire nelle tappe successive. Fine stagione 2013, Ivan Basso concentra tutti i suoi sforzi ovviamente sulla Vuelta. Che vuole vincere? Sempre voglio vincere avversari permettendo. Non so esattamente chi alla fine parteciperà alla prossima Vuelta. Sicuramente ci sarà Nibali che ha nei suoi programmi, quindi è già sufficiente avere uno dei corridori più forti al mondo. Sicuramente tra i tre corridori più forti al mondo da corse a tappe. E' mio ex compagno e quindi voglio vincere, però gli avversari saranno comunque qualificati e non sarà facile. Che effetto ti farà ritrovare Vincenzo da avversario? Poi ho letto di un'indiscrezione un po' particolare. Può essere che la Stanata abbia cercato per andare a correre con lui nell'anno prossimo. Esiste il calciomercato, esiste il ciclomercato e Fanta, ciclomercato e calciomercato. Tutto può accadere ovviamente, però io ho ancora un anno di contratto, sono felicissimo della mia squadra. Loro lo sono altrettanto di me. Non ci sono assolutamente i presupposti perché questo possa accadere, però nel ciclismo come nel calcio non si sa mai. 2014 hanno un po' del rilancio, messi da parte tutti i problemi fisici che hai avuto. Magari è troppo presto, però noi te lo chiediamo lo stesso. Hai preferenze, giro, tour, non sai ancora? Ma vale lo stesso discorso delle domande precedenti. Un atleta quando ha una stagione difficile, in questo momento tutte le mie attenzioni sono concentrate nella vuelta, proprio perché è il grande obiettivo di questa stagione. Ed è una grande occasione per me. Vengo da una stagione difficile dove non ho molte corse e questo alla fine mi può aiutare e può essere un valore aggiunto. Quindi cerco di concentrare tutte le mie attenzioni e tutto quello che ho, curando ogni dettaglio per riuscire ad arrivare alla vuelta competitiva. A novembre farai 36 anni, un'altra domanda che purtroppo Ivan ti devo fare. Secondo te quante stagioni ha ad alto livello ancora, basso davanti a sé? Ma non c'è un'età. Io credo che un atleta invecchia quando smette di correre, non devi pensare a una sensazione che uno ha dentro e io spero di provarla il più tardi possibile. Non c'è un'età per smettere di correre. Devi smettere quando non riesci più ad essere competitivo, nel ruolo che tu hai avuto per tutta la tua carriera, decidi o di cambiare ruolo, quindi non fare più il leader e di fare qualcos'altro, oppure di lasciare, però non lo vedo così vicino a questo momento.